I contenuti tecnici, forse avrebbe visto una musica un pochettino più spigliata a dare maggior ritmo, maggiore presenza. Un po' più di enfasi, noi siamo ancora in modalità Jessica Gadirova ai campionati di Liverpool dove lì era un'esplosione. Ottimo, manca completamente la presa da Serrani, era altissimo in questa caccia, è peccato si è giocato anche l'accesso alla finale. Guarda, proprio sulla punta c'era amplitude in questo volo, calma, tecnica, c'era tu probabilmente a quasi peccato di eccessiva sicurezza. Torna alla sbarra Serrani per completare il suo esercizio. E' due, adesso basta. Questi sono gli errori, adesso subentra una certa deconcentrazione, sono quegli errori che fanno arrabbiare perché non ti devi più lasciare andare in questo modo. E qui rivediamo ancora. Eppure ha slancio da vendere, ha qualità tecnica il suo ginnastro. Non può sbagliare così male. E ancora. Vedi come domina questi elementi, però non puoi sbagliarne di file due volte come ha fatto lui. Bellissima anche questa uscita da Adler con un giro d'avvitamento. Questa qua fatta bene, questa ribalco fatta benissimo. è uno sbarrista per eccellenza, ma qui è la testa che ha giocato a un brutto scherzo. E questo mi dispiace tantissimo perché lui ha un potenziale che dovrebbe assolutamente poter far risalire le quotazioni nostre. Invece in questo caso non è stato assolutamente il modo giusto per proporlo. Bisogna concatenare una figura dopo l'altra purtroppo per Serani non basta.